Ben trovati spettatori e spettatrici, buongiorno, nuovo appuntamento con i giornali in edicola. La nostra rassegna stampa, gli aiuti del governo a famiglie e imprese contro il caro energia sono stati prorogati a settembre, confermate tra le altre misure il bonus e il taglio dell'IVA. La patente sarà sospesa se si è al cellulare mentre si guida, misure severe anche per chi guida in stato di ebrezza o avendo assunto stupefacenti, sono alcune delle misure del nuovo codice della strada. Poi rate dei mutui immobiliari raddoppiate con tassi più alti e l'Italia critica il rialzo annunciato dalla Banca Centrale Europea. Infine la politica estera, Putin ringrazia l'esercito per aver fermato, per aver evitato la guerra civile e mentre Prigozhin è in Bielorussia, il cardinale Zuppi, presidente della conferenza episcopale italiana è a Mosca per la missione di pace. Sono alcune delle notizie che troviamo sui giornali oggi, mercoledì 28 giugno. Come di consueto cominciamo la nostra rassegna stampa dalla lettura della prima pagina del Corriere della Sera. Cambio al vertice di Banca d'Italia, arriverà Panetta, questo è il titolo principale. Il titolo principale sull'economia, avviato l'iter per la nomina dopovisco, la BCE, nuovi rialzi dei tassi, lira dei ministri. Il consiglio dei ministri sceglie il governatore di Banca Italia, avviato l'iter per la nomina di Fabio Panetta. Intanto Christine Lagarde annuncia che il costo del denaro tornerà a salire a luglio, aumenteranno i tassi. Scelte incomprensibili dalla BCE, tuonano i ministri l'allarme di Confindustria, gli investimenti sono fermi. C'è la riflessione proprio di Fabio Panetta, più concorrenza e privacy grazie all'euro digitale. E poi auto, giro di vite su alcol, cellulari e monopattini, le novità del codice della strada. Poi a centropagina Putin disarma la Wagner, il capo è in esilio, si titola sulla guerra, missione a Mosca del cardinale Zuppi. Poi un ex bodyguard punta al Cremlino e il retroscena, la pace è possibile, Blinken ha un piano. Ancora il titolo sull'alluvione, ricostruire l'Emilia Romagna, via libera al generale Figliuolo, dovessi riassumere la mia opinione sul neocommissario per la ricostruzione post-alluvione in Emilia Romagna, direi, scrive Beppe Severnini, che oggi sul Corriere traccia il ritratto. È un uomo che trova romantica la logistica, un militare che conosce la differenza tra forma e formalismo. Un italiano innamorato dell'Italia e del suo mestiere. Passiamo alla Repubblica. Le spine di Panetta, nuovo governatore a Banca Italia. Il governo indica il membro italiano nel comitato della BCE come successore di visco alla nostra banca centrale. Ma su MES, tassi e PNRR è tensione con l'Unione Europea. Attacco di Lega e Forza Italia a Lagarde. Per alzare il costo del denaro ci strangola Figliuolo, commissario per l'alluvione, Bonaccini, scelta centralistica. C'è l'analisi di Walter Galbiati, un camino a ostacoli. La scelta di Fabio Panetta alla guida della Banca d'Italia è una scelta di Giorgia Meloni, condivisa certamente con il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, ma verrebbe da dire all'insaputa, se non in contrasto, con Matteo Salvini. Poi il commento di Sebastiano Messina, la piruetta dei Novax. Le straordinarie capacità del generale Francesco Paolo Figliuolo sono ben note agli italiani, che hanno potuto apprezzarle quando il governo di Mario Draghi affidò a lui la guida della difficile campagna di vaccinazione contro il Covid-19. Poi a centropagina la brigata Wagner ora ha uno stato e in foto vediamo il presidente, Lukashenko, 68 anni, che guida la Bielorussia dal 1994 e Prigozhin è arrivato nel suo esilio proprio nello stato di Lukashenko. Dunque in Bielorussia leggiamo, è soltanto l'inizio, dicono esponenti delle forze dell'ordine, non sono i soli in Russia, sono in pochi a credere che il confronto tra il presidente tradito, Vladimir Putin, e il suo macellaio Prigozhin sia finito qui. Entrambi hanno appreso il codice della strada nei bassi fondi di Leningrado, oggi San Pietroburgo. Ci sono le interviste a Stihl che dichiara per Putin, questo è l'inizio della fine, poi Tikhanovskaya Lukashenko ha svenduto Minsk, ma si parla anche di sanità pubblica oggi sulla Repubblica. Schillaci non smantello, ma cerco 3 miliardi in più. Il governo non ha mai detto di voler privatizzare la sanità, però molti problemi attuali sono eredità degli ultimi 20 anni. Dobbiamo cambiare modello, a dirlo in un'intervista a Repubblica è il ministro della salute Orazio Schillaci che cerca 3 miliardi per tamponare le falle del sistema sanitario. E dunque l'inchiesta di Michele Bocci, la fuga dei pazienti nel privato. Poi in spalla la cronaca, il nuovo codice della strada, a tolleranza zero, lo youtuber di Casal Palocco, sono pentito per la vita che ho distrutto, ma non andavo a 120 all'ora. Poi narco San Milano, torturato e ucciso per uno sgarro e oggi l'intervista ad Angela, io come Indiana Jones, ma senza pugni. Le parole del noto conduttore e divulgatore scientifico. E poi a Pompei, ecco la pizza di 2000 anni fa. Passiamo alla stampa, il governo contro la BCE, Banca Italia, sia Panetta, Tajani e Salvini, rialzo tassi delusi da Lagarde, ci porta in recessione. C'è l'intervista a Pichetto, ci batteremo contro le direttive europee su Euro 7. Casa Green, Fabio Panetta, sarà l'undicesimo governatore della Banca d'Italia. Il blitz del governo Meloni si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri, poche ore dopo il violento attacco dell'esecutivo verso le strette monetarie di Francoforte. Lagarde ci porta in recessione. E poi, da un lato, l'analisi, il governatore giusto e la tattica sbagliata, e poi il dialogo si almesse e in fretta. In primo piano, anche la politica estera e dunque la guerra, voleva uccidere tutti, Putin in foto, Lukashenko ha convinto Putin a salvare Prigozhin e la Wagner, e poi il retroscena, la rivolta dell'esercito, ultimo incubo di Vlad. Leggiamo, abbiamo fermato di fatto una guerra civile. Vladimir Putin pronuncia il secondo discorso a sorpresa in appena 14 ore, scegliendo stavolta la scenografia della piazza delle cattedrali del Remlino. Di fronte ai reggimenti in alta uniforme, il presidente russo sembrava voler annunciare qualcosa di straordinario. E poi il reportage di Francesca Mannocchi, il Dnipro, come il Don, scacceremo i russi. Ancora, ti stronchi di canne, via la patente, stop anche per chi guida al cellulare. Salvini presenta il nuovo codice della strada. Pugno di ferro per chi guida sotto effetto di alcol e droghe, stop ai monopattini selvaggi, mai più abbandonati sui marciapiedi o lanciati contro mano, ma in compenso obbligati ad avere targa e assicurazione, mentre chiunque li guidi dovrà indossare il casco. Novità anche nelle regole per le ZTL. Dal Covid all'alluvione tocca sempre a Figliuolo, il commissario in Romagna, il generale Figliuolo, è stato indicato dal governo come commissario straordinario per la ricostruzione post alluvione in Emilia Romagna. Il noto generale, come lo definisce il ministro Nello Musumeci, arriva quasi due mesi dalla tragedia. Il mandato durerà cinque anni. Poi in spalla la scuola, giù i voti in condotta, io sto con Valditara, un insegnante non dovrebbe mai sopportare alcun tipo di sopruso, meno che mai una violenza, tollerare un affronto, anche solo verbale, un insulto, una disobbedienza, un dileggio. Non dovrebbe mai far finta di niente, abbozzare come se nulla. Fosse poi la politica, eredità Berlusconi, centomilioni a Fascina, con una infilata di assemblee, comincia il dopo Silvio Berlusconi del Biscione. Per Marta Fascina, l'ultima compagna del Cavaliere, sono pronti molti soldi, si dice intorno ai 100 milioni di euro e l'usufrutto della villa di Arcore. Passiamo ad avvenire il giornale dei Vescovi italiani. Zuppi bussa a Mosca, missione dell'inviato del Papa in Russia, attesi incontri con Kirill ed esponenti politici, Putin disarma i ribelli della Wagner, Prigozhin va in Bielorussia, l'Ucraina avanza. Dopo il viaggio a Chievo, il cardinale vuole incoraggiare gesti di umanità e vie per una pace giusta. Leggiamo le prime battute del pezzo di Mimmo Muolo. Il cardinale Matteo Zuppi è a Mosca da ieri sera, è arrivato alle 19.20, ora italiana, nell'Annunziatura Vaticana, per la seconda parte della missione di pace affidatagli dal Papa e che lo aveva già portato a Chievo nei giorni 5 e 6 giugno. Oggi e domani, significativamente in coincidenza con la festa di Pietro e Paolo, molti venerati anche nel mondo russo, ortodosso, l'Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI avrà una serie di incontri la cui agenda non è stata resa nota, ma che dovrebbero comprendere la visita al Patriarca Kirill e a un rappresentante di Putin, se non proprio, ma qui il condizionale è più che mai d'obbligo, allo stesso Presidente della Federazione Russa, anche a Chieva all'inizio, il faccia a faccia con Zelensky, non era previsto, eppure ci fu, pur essendo le due situazioni non esattamente analoghe. Unico impegno trapelato per ora alla celebrazione della Messa domani nella Cattedrale Cattolica di Mosca. Poi, l'intervista all'Arcivescovo Kaigama, non ci tutelano, dramma, preti rapiti, la mia Nigeria soffre, dichiara. E poi, la politica con le decisioni del Consiglio dei Ministri, alluvione, poteri a figliuolo, col cellulare patente sospesa e il governo sceglie Fabio Panetta per Banca Italia. C'è anche la denuncia nel rapporto, lavoro sottopagato, poi in fila. Alla Caritas è il caso, Natalità e Rai, scontro tra Meloni e Schleini. Infine, migrazioni, l'Unione Europea chiede garanzie, slitta l'intesa con Tunisi. Passiamo al sole 24 ore, codice della strada, tolleranza zero per l'alcol e monopattini con la targa. La riforma annunciata, maggiore severità sull'uso dei cellulari e allentamenti sulle sanzioni seriali in ZTL. Alcoloc previsto se si è colti alla guida con tasso alcolemico superiore a 0,8 e poi incentivati i corsi di recupero punti e inasprito il possibile ritiro della patente. Fisco sul tredicesime e straordinari sconti solo ai redditi bassi e poi a centropagina Fabio Panetta sarà il nuovo governatore di Banca Italia e il governo avvia la nomina e si titola anche sul bonus bollette prorogato sino a settembre una delle misure per contrastare il caro energia e favorire imprese e famiglie. Poi in spalla Putin evitata una guerra civile il cardinale Zuppi vola a Mosca con l'unico obiettivo della pace. E poi Caltagirone rischio autocrazia con la lista del CDA riguarda chiaramente la questione la situazione generale e poi audiovisivo calcio e film boom di visioni illegali. il sole 24 ore la definisce emergenza pirateria. Passiamo al resto del Carlino Zuppia Mosca ma Kiev frena inutile il presidente della CEI in missione di pace vedrà Kirill e tenterà di incontrare Putin Zelensky freddo non ci fidiamo del Cremlino lo zar disarma la Wagner il presidente della Bielorussia Prigojin è vivo per merito mio manager italiano fermato nella capitale russa. alluvione figliuolo commissario nominato il generale e Bonaccini dichiara bene ma scelta politica Bonaccini come sappiamo governatore di una delle regioni se non la più colpita dall'alluvione. Via libera del Consiglio dei Ministri alla nomina del generale Francesco Paolo Figliuolo a commissario per la ricostruzione delle zone danneggiate dall'alluvione del maggio scorso. il governo ha scelto un modello centralistico e la reazione di Stefano Bonaccini governatore dell'Emilia Romagna scelta sbagliata ma che vede la nomina di una persona con cui abbiamo collaborato bene. Poi in spalla a sinistra il dopovisco Panetta sarà governatore di Banca Italia e l'intervista a Tajani i tassi BCE così rischiamo la recessione. A fondo pagina vote in condotta abbassati prof colpita da pallini poi alcol e droga patenti sospese il nuovo codice della strada e i primi 140 anni di Pinocchio per l'opera di Collodi via alle celebrazioni. Passiamo all'eco di Bergamo il volontariato invecchia alla fuga degli under 35 questo è il titolo principale nella Bergamasca giovani impegnati ma sempre meno nelle associazioni. Poi a centropagina il cantiere rondò dell'A4 abbattuto l'ultimo cavalcavia e nel taglio basso la cronaca cade nel lago salvato da turisti tedeschi. Andiamo a sud con la gazzetta del mezzogiorno zitti e mosca Putin disarma la Wagner e tira dritto arriva Zuppi in cerca di pace mistero Prigojin esule a Minsk lo zare è apparso in video con qualche tremore e si moltiplicano le voci su una possibile malattia leggiamo da oggi il cardinale Matteo Zuppi presidente della CEI sarà in missione in Russia si parla di negoziati umanitari e della questione del ritorno in patria dei bimbi ucraini deportati intanto si è appreso che le armi della brigata Wagner dopo lo stop al tentato colpe di sabato saranno trasferite all'esercito russo tra queste tank pensire caccia Putin ha ringraziato i militari sottolineando che grazie a loro è stata impedita una guerra civile nuovi dubbi sulla sua salute e sulla salute del presidente per un video in cui sembra mostrare tremori Prigojin è fuggito a Minsk e deve fronteggiare il malcontento della brigata per la ritirata lo vediamo in foto Vladimir Putin durante il discorso di ieri nella piazza delle cattedrali con la guardia nazionale alle spalle poi la cronaca regionale con il nodo trasporti treno Bari Napoli finalmente diretto ma i tempi di percorrenza cambiano poco scrive Angela Stefania Bergantino poi i dati sui tumori dei pugliesi consegnati all'ex Silva c'è il caso la battaglia sul siderurgico e poi la politica in Molise le prove d'orchestra del grande centro ma il campo largo era già naufragato nel mare di Brindisi poi nel taglio basso Trani calugnò due colleghe il CSM destituisce l'ex Gip Nardi Fabio Panetta dopovisco nuovo governatore Banca Italia e il generale Lucano Figliuolo commissario per l'alluvione infine a Pompei la prima pizza riaffiora da un affresco una focaccia condita di spezie già 2000 anni fa la vediamo in foto in una natura morta l'affresco Pompeiano di 2000 anni fa in cui è rappresentata molto probabilmente l'antenata della pizza passiamo all'edicola del sud Bari Napoli in partenza prima corsa il 10 luglio il ministro Salvini lo annuncia e accoglie le richieste dei sindaci delle due città sarò sul convoglio il collegamento ferroviario tra Bari e Napoli è più vicino il primo viaggio sarà effettuato il prossimo 10 luglio ad annunciarlo è stato il ministro e vice premier Matteo Salvini che così risponde alle sollecitazioni del sindaco napoletano Gaetano Manfredi e di quello barese Antonio De Caro poi il trasporto aereo Volotea punta ancora sulla Puglia per l'estate ecco altre 12 tratte a centropagina terzo mandato meglio dell'Europa Michele Emiliano in visita a Bruxelles e dunque si traccia lo scenario politico il governatore torna alla carica ed ha indizi sul futuro poi in spalla verso le comunali le possibili sfide a Bari Lecce e Foggia e il consiglio c'era segretario e Forza Italia va in frantumi poi nel taglio basso il corteo funebre finisce in Parlamento per Melillo e Mafia la morte di Cristian Di Gioia e mega festa abusiva col rapper Skinny raffica di sanzioni e il caso a Galatina in spalla a Bari la questura si rafforza con 33 agenti nella batte impennata di tumori tra le donne e infine sul Gargano i rifiuti dell'Emilia e si parla perciò di Foggia e dintorni passiamo al messaggero bollette aiuti fino a settembre il consiglio dei ministri proroga lo sconto su luce gas figliuolo nominato commissario per l'alluvione i governatori di Emilia Marche e Toscana saranno i vice polizia di stato Rizzi Vicario prorogati a settembre gli aiuti in bolletta per famiglie e imprese un pacchetto da circa 800 milioni di euro ieri dal consiglio dei ministri il decreto legge prevede la conferma nel terzo trimestre della riduzione dell'iva al 5% sulle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali famiglie e imprese che potranno contare sull'iva al 5% anche per il teleriscaldamento il generale Figliuolo nominato commissario per l'alluvione i governatori di Emilia Marche e Toscana saranno i vice e poi polizia Ricci Rizzi scusate vice capo Vicario e poi Codice della strada arriva la stretta su chi guida ubriaco col cellulare Casalpolacco Palocco lo youtuber sono pentito e la svolta del governo su Banca Italia a novembre Panetta al posto di Visco avviato l'iter per il cambio a via nazionale a centropagina un Klimt da record europeo 99 milioni la dama con ventaglio l'opera dell'artista venduta per 99 milioni di euro ancora la cronaca manager italiano fermato a Mosca fugge ad Abu Dhabi la bruzzese accusato di possesso di droga in libertà vigilata ha beffato i controlli russi è stato fermato dalla polizia russa a Mosca con l'accusa di avere della sostanza stupefacente Giovanni Di Massa ingegnere italiano di 61 anni è stato poi rilasciato in libertà vigilata ed è riuscito a lasciare la Russia raggiungendo Abu Dhabi ed oggi rientrerà in Italia al sicuro è questa la brutta avventura vissuta da Di Massa originario di Sulmona manager ingegnere una profonda esperienza nel settore dell'energia Putin perdona tutti depenalizzato il blitz della Wagner e Prigojin e a Minsk nel taglio basso poi balzo della sapienza nella classifica delle università stiamo parlando del ranking mondiale QS l'edizione 2024 della classifica QS World University Rankings colloca la sapienza al 134 posto nel mondo il miglior risultato mai ottenuto dall'Ateneo in questa classifica salendo al secondo posto assoluto in Italia dopo il Politecnico di Milano che è al 123 la sapienza al top delle università generaliste si è aggiudicata il primato nazionale in due nuovi parametri il tasso occupazionale e l'internazionalizzazione in questo caso anche trentatresima al mondo andiamo al mattino bollette gli aiuti per l'estate il consiglio dei ministri proroga fino a settembre lo sconto alle famiglie sull'energia svolta per Banca Italia arriva Panetta Emilia figliuolo commissario alla ricostruzione poi a centropagina Pompei spunta la pizza antelitteram la scoperta in un affresco venuto alla luce in una domus troppo forte alla tentazione di gridare e titolare sulle pagine dei giornali e sui social trovata l'antenata della pizza napoletana a Pompei ma come ha scritto qualcuno ironicamente sui social e adesso chi lo spiega ai maestri pizzaioli che la pizza gourmet è stata inventata già oltre 2000 anni fa chiudiamo con il quotidiano del sud fiducia dei consumatori alle stelle miracolo italiano indici record per clima economico e futuro imprese a 108 3 contro 88 5 della Germania e 101 della Francia infine la fiducia degli italiani fa un balzo indietro i francesi peggio i tedeschi l'indice istat dei consumatori a giugno con questo titolo chiudiamo la rassegna stampa di oggi a me non resta altro che augurarvi buona giornata e buon proseguimento con i programmi della rete grazie a tutti Grazie a tutti.